Oggi voglio accompagnarvi a fare una sorta di ripasso del Rinascimento, in particolare primo rinascimento del Quattrocento ma anche del Rinascimento pieno e maturo, almeno in parte, accompagnandovi idealmente attraverso le sale di un museo che è l'Accademia Carrara di Bergamo che ha appena riaperto le sue sale, è appena stata riallestita e quindi ci permette di visitare un luogo molto molto interessante, tra l'altro Bergamo e Brescia sono capitale della cultura 2023, ma io voglio più che fare una guida dell'Accademia Carrara, delle sue opere, vorrei proprio accompagnarvi per vedere, mettere un po' alla prova le vostre competenze, più ancora che non le conoscenze. Ho in mente magari di usare anche questa video lezione come sorta di ripasso ma anche quasi di verifica per i miei ragazzi perché si tratta di vedere delle lezioni che abbiamo fatto a proposito del Rinascimento, cosa riusciamo in qualche modo a trarre, ecco i temi, gli argomenti che possiamo trarre. Tra l'altro il nuovo allestimento dell'Accademia Carrara di Bergamo a mio avviso è molto molto ben fatto, molto interessante, con dei colori alle pareti, vedrete, che identificano un po' l'area geografica degli artisti che vengono esposti, una buonissima illuminazione, solo pochissime opere hanno il vetro protettivo davanti perché sono le più delicate in assoluto, ma questo permette ovviamente una migliore visibilità in generale. Tra l'altro vedete che qui io ho provato a inserire una serie diverse di opere come miniatura iniziale della mia video lezione, sto provando a fare una sorta di sondaggio sul mio canale, in realtà Instagram, sulla mia pagina Instagram dedicata a Arte Essenziale, se non la seguite andatela a seguire già che ci siamo, per capire quale avrei dovuto mettere perché ce ne sono tantissime di opere meravigliose che si prestavano appunto all'uso e insomma mi divertiva anche fare questa specie di sondaggio, a me tanto serve veramente come attacco iniziale. Intanto avete visto appunto che la collezione ci propone una serie di opere che attraversano, io in particolare mi concentrerò, vi dicevo, sul Rinascimento, ma ci sono opere anche che vanno oltre il Rinascimento, ma vedete che in fondo sono opere molto molto interessanti, ma non così tanto celebri e questo ha un grande vantaggio secondo me perché ci permette davvero di mettere alla prova quello che già sappiamo del periodo, delle caratteristiche stilistiche, dei vari artisti che possiamo incontrare esposti. L'Accademia Carrara di Bergamo è nata come collezione nel 1796 grazie appunto al fondatore che è questo Giacomo Carrara ed è costituita da dei lasciti di collezionisti privati, quindi è una struttura particolare. Qui la vedete appunto nel palazzo neoclassico che è stato realizzato per accogliere la collezione, potremmo mettere alla prova anche la nostra competenza architettonica, ma insomma questa la lasciamo un po' in secondo piano. Allora nel nuovo allestimento vi segnalo una cosa abbastanza interessante perché nella parte introduttiva delle scale che si devono percorrere per raggiungere le vere e proprie sale dell'esposizione, così come nell'ascensore che si deve prendere per arrivare sopra senza fare le scale, c'è questa installazione di questi due artisti che sono Devin Helen Burns e Austin Young che hanno realizzato questo, che si definiscono come fallen fruit, che hanno realizzato questa installazione con le carte da parati che riproducono una serie di piccoli animali, oggetti, fiori, frutta che sono presenti nelle opere della collezione, ma uniti a una serie anche di elementi vegetali che fanno parte invece dell'ecosistema del luogo in cui gli artisti vanno a intervenire. Sappiate che ad esempio questo duo ha lavorato per il Victorian Albert Museum di Londra oppure per la National Gallery of Victoria di Melbourne, quindi è stato chiamato appunto per fare questa parte introduttiva del riallestimento anche perché loro, anche perché lavorano molto con la vegetazione, con i fiori o con i frutti, vivono proprio la città come luogo, voglio fruttuoso, non a caso appunto con la presenza vegetale, in senso sia creativo che produttivo, ma anche nell'idea di una comunità che può creare e condividere l'abbondanza di risorse. Quindi è ovviamente un tipo di allestimento che è, come dicono dal museo stesso, instagrammabile, quindi ovviamente porta i visitatori a rubare uno scatto e condividerlo, ma in questa logica appunto di consapevolezza, di conoscenza, di comunità, che è molto interessante. Io tra l'altro mi sono divertita a identificare una serie di uccellini, mele, garofoni e cose del genere che sono presenti nelle opere che in parte vi mostrerò e quindi è un gioco aggiuntivo. Questo è soltanto un piccolo dettaglio di qualcosa di molto più grande. Questa sono io appunto in un piccolo dettaglio della parte iniziale perché c'era anche una parte vegetale che mi interessava parecchio, visto che io sono appassionatissima anche di cose vegetali. Allora, partiamo col nostro percorso. Le prime sale ci mostrano, ci permettono di mettere alla prova la nostra conoscenza a proposito di quello che succede tra l'epoca tardogotica e il rinascimento. Se guardate le date potreste essere tratti un po' in inganno perché mi dite, vabbè, ma siamo già agli inizi del Quattrocento e tra l'altro a Firenze. Ma vedrete che alcuni artisti ancora sono a cavallo tra le novità proposte dai tre grandi, Brunelleschi, Donatello e Masaccio, e invece lo stile ancora tardogotico che a Firenze, come nel resto d'Italia, ma in particolare anche a Firenze, veniva ancora praticato. Da cosa lo vediamo? Ad esempio, vedete la presenza del fondo oro o delle punzonature, queste decorazioni realizzate con questi punzoni metallici, vedete, intorno all'Aureola di Cristo, ad esempio, o in parte della cornice, perché questo era tratto dal mondo dell'oreficeria, che ancora come retaggio dell'epoca tardogotica era l'arte privilegiata. Molti degli artisti che noi abbiamo studiato, anche nel primo Quattrocento, se vi ricordate, avevano formazione come orafi. Sempre in questa stessa logica vi presento un'opera preziosissima di Benozzo Gozzoli. In questo video non vi parlerò delle opere, perché diventava una vera e propria guida. Ripeto, è una sorta di spunto su cui lavorare, anzi, vi vorrei dare strumenti per mettere alla prova appunto quello che già potete sapere. È Benozzo Gozzoli, un altro artista di questi a cavallo tra tardogotico e rinascimento, primo rinascimento. Lo vedete molto bene. Che cos'ha di tardogotico? Il decorativismo, la preziosità. Guardate come ci sono questi angeli che sono seduti a suonare un'arpa e un liuto su una sorta di pavimentazione che simula l'effetto del marmo dipinto, che quindi ha un effetto preziosissimo. Guardate quello sfondo vegetale punzonato, riempito di questi meravigliosi vegetali. Sembra un po' di vedere quella che diventerà la vegetazione del fondo della prima vera. di Botticelli, così capite anche perché quando vi ho raccontato di Botticelli vi dicevo non è realistico quel fondo, è ancora un retaggio di qualcosa di quasi di catalogo, ancora gotico da un certo punto di vista. Vedete ancora che ci sono questi angeli reggi cortina. Potrebbero farvi venire in mente la Sant'Anna metterza di Masaccio e Masolino, in cui c'erano questi angeli reggi cortina che in qualche modo avevano questo tessuto che sbalzava in avanti la Madonna Sant'Anna, la Madonna e il bambino. Guardate invece, quindi questo è ancora un po' goticheggiante, tardo goticheggiante proprio nella preziosità, guardate invece l'effetto volumetrico del panneggio dell'abito di Maria e allora in questo caso forse un pochettino la direzione del rinascimento, anche il nostro benosso Gozzoli la sta intraprendendo. Vedete ancora questi elementi che vi sto mettendo in evidenza, non ci fermiamo su tutte, possiamo ritrovarli in queste prime sale, in queste prime opere appunto di artisti tra Firenze, Siena, della Toscana, insomma di quegli anni. Di nuovo il fondo oro, di nuovo le punzonature, di nuovo questa delicatezza, queste mani affusolatissime, questa grazia ancora tardo gotico, vedete quel velo sottile che incornicia il manto di Maria, così come che copre la nudità di Gesù Bambino, davvero prezioso. Andiamo avanti, ci spostiamo a vedere un artista invece che è nato a Urbino e che quindi così a occhio per la geometrizzazione che ci propone, per quei colori così luminosi e così nitidi, potrebbe forse farci venire in mente la formazione che poi sarà quella di Piero della Francesca, ma questi sono contatti anche indiretti, quindi li lasciamo lì, però vedete che sicuramente è molto diverso l'effetto del nitore, e anche se vedete anche un'altra novità, Gesù Bambino diventa improvvisamente un bambino che assomiglia di più a un bambino reale, a un bambino vero, si porta le mani alla bocca, anche se la sua anatomia è tutt'altro che corretta, come dire, così come l'anatomia della mano di Maria che lo tiene per la spalla, così come le proporzioni, però vedete la direzione è quella. Qui vi ho inserito invece tre carte delle 26 che sono custodite nell'Accademia Carrara di Bergamo, e che ci testimoniano ulteriormente di questo interessante passaggio dal gotico, tardo gotico, al rinascimento, in particolare nelle diverse corti italiane, e quelli che vi mostro sono tre carte del 26 che facevano parte di questo mazzo dei tarocchi, Visconti Sforza, realizzate appunto da Bonifacio Bembo e questo Antonio Cicognara, queste tre in particolare. Erano oggetti di lusso di questi corti rinascimentali milanesi, appunto questo mazzo di 56 carte, tra l'altro suddiviso tra la collezione d'Accademia Carrara di Bergamo, preziosissima, e una collezione privata, e un museo di New York, quindi davvero è, questa è una parte davvero delicata e importante, le carte erano realizzate con un fondo di vero oro, anche qui vedete punzionato, e al di sopra una parte a tempera, quindi in alcuni casi queste sono molto ben conservate, in altri casi il colore si è staccato, perché essendo secco ovviamente questo è l'effetto. Qui arriviamo a incontrare un personaggio che vi ho fatto sfiorare, Jacopo Bellini, questo nome, o meglio questo cognome, non vi è affatto nuovo, perché Bellini dovete sapere che era il padre di due artisti ben più illustri di lui, mi tocca dirlo, che saranno gentile, vabbè, gareggia con lui, e soprattutto Giovanni Bellini, Giovanni Bellini sarà il vero e proprio capostipite della pittura veneziana tonale, quella che riesce a costruire gli effetti dello spazio, semplicemente impiegando l'accostamento di colori caldi, di colori freddi, di toni luminosi, di toni scuri, e tra l'altro Jacopo Bellini era anche padre di Nicolosia Bellini, vi aggiungo questo nome perché, forse vi ricorderete, che Nicolosia Bellini diventerà la sposa di Andrea Mantegna, creando un legame parentale diretto appunto tra Mantegna e Giovanni Bellini, che quindi si influenceranno a vicenda. Qui vedete un dettaglio di questo bambino ancora un po', l'intento è quello naturalistico appunto, ma ancora un po' ingessato, perché appunto lo stesso Jacopo Bellini era ancora a cavallo tra questi stili. Vedete, Venezia, 1440 circa, quindi comunque in un'epoca già di 400 inoltrato, ma se le novità non sono permeate fino in fondo nella pittura, beh, ovviamente la pittura resta un passo indietro. Un discorso leggermente diverso riguarda invece Pisanello, che viene considerato normalmente tra i più importanti autori dell'epoca appunto tardogotica, per quanto appunto anche lui attivo in Toscana, Pisanello appunto è il suo nomignolo dalla città di provenienza o di lavoro, ma questo è un preziosissimo ritratto di Leonello d'Este, il signore di Ferrara, di Modena, insomma di quella signoria importante. Vi faccio vedere preziosissimo come ritratto, anche perché fissa ulteriormente la tipologia dei ritratti in senso quasi medaglistico, come se fosse una medaglia, come se fosse una moneta, vedete il personaggio ritratto di profilo, ma non è un caso perché lo stesso Pisanello diventerà un grandissimo medaglista e vi potrà capitare di incontrare alcune di queste medaglie, in particolare la prima là in alto a sinistra è quella che rappresenta l'imperatore bizantino Giovanni VIII paleologo e al di sotto ci sono altre scene con altre medaglioni con ritratto di Leonello d'Este. Ecco vedete la tipologia del ritratto di profilo che si richiama agli imperatori romani e che quindi come modalità ritrattistica rimarrà un modello a cui rifarsi proprio nella ritrattistica quattrocentesca, fino a che non ci saranno grandi movimenti, grandi novità che noi abbiamo un po' visto con Antonello da Messina, che in qualche modo qui tra poco vi evocherò. Ci spostiamo nell'area padovana perché? Qui vi mostro, ho inserito due diverse opere di Giorgio Schiavone, forse un po' meno noto di Andrea Schiavone, un altro artista ma manierista quindi di qualche decennio successivo. Vi ho inserito queste due opere di Giorgio Schiavone, questi due santi, perché potreste identificare in quale bottega Schiavone si è formato. Se vi ricordate, io quando vi ho fatto studiare Andrea Mantegna, vi raccontavo che si era formato nella bottega di Francesco Squarcione e che potremmo identificare gli artisti che provengono da quella bottega perché tutti gli artisti che provengono da quella bottega, oltre ad avere una grande conoscenza per l'antico, perché nella bottega dello Squarcione verosimilmente c'erano dei calchi in gesso di opere antiche, forse addirittura venivano prodotte per essere vendute questi calchi, o forse addirittura c'erano opere antiche vere e proprie, ma vi dicevo che tutti i personaggi, tutti gli allievi che lo Squarcione aveva avuto, in particolare come marchio di fabbrica della bottega dello Squarcione, inserivano delle ghirlande di fiori e di frutta, come vedete in questo caso. Ho trovato questa, non mi ricordavo dove avessi letto questa citazione, ne ho trovato in parte una traccia in un testo di Chastel, Andrea Chastel, quindi c'è un fondo di autorevolezza, però davvero possiamo identificarli molto facilmente. Si formerà alla bottega dello Squarcione anche Cosmetura, che in questo caso però è un ferrarese, e si può riconoscere, io non vi ho quasi mai parlato di pittura ferrarese, Cosmetura in particolare si può riconoscere da questa linea nervosa, spigolosa, anche nelle linee curve paradossalmente, nelle anatomie che descrive. E ancora però c'è un fondo oro, pur se in epoca avanzata, perché le diversità dipendono proprio dalle singole corti, dalle singole signorie. Qui ci troviamo davanti a un Carlo Crivelli, dove volete mai che si sia formato Carlo Crivelli, vedete questa ghirlanda di fiori e di frutti, ed ecco che nonostante la sua linea così particolare, anche il nostro Crivelli appunto sappiamo che si è formato alla bottega dello Squarcione. Questa tra l'altro è un'opera interessantissima, perché è una delle tante che vedremo, come abbiamo già iniziato a vedere, che rappresentano la Madonna col Bambino, un tema ricorrente del Quattrocento, un tema molto amato del Quattrocento, perché permette di mostrare Gesù Bambino in braccio a sua madre, come se fosse quindi una scena di maternità, prima ancora che non in riferimento alla predestinazione legata alla passione, quindi al drammatico epilogo della vita di Gesù. Ma in un'opera come questa di Crivelli possiamo vedere anche l'influenza fiamminga, perché nel senso che vediamo che i singoli elementi che vengono proposti, la mela, il garofano, quello che vi citavo prima appunto nella carta da parati, il cetriolo, la ciliegia, sono elementi che rivestono anche una valenza simbolica. Vi ricorderete quando abbiamo analizzato ad esempio il San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina, abbiamo analizzato anche uno per uno ad esempio i significati simbolici della pernice, del pavone, della ciotola d'acqua che c'erano nella parte davanti, alla stanza dello studio vero e proprio, del santo. E abbiamo detto, risentono dell'influenza fiamminga non solo per la minuzia fiamminga con cui sono stati dipinti con la tecnica olio, ma anche perché ogni dettaglio ci riporta, ci rimanda a un significato simbolico. Vi faccio l'esempio di questa meravigliosa opera di Carlo Crivelli, delicatissima. Il bambino ha in mano la mela, che fa un riferimento simbolico ovviamente al peccato originale. Vedete che in basso abbiamo questo fiore, questo garofano rosso, che evidentemente è un riferimento, così come la ciliegia dall'altra parte, è un riferimento alla Eucaristia e quindi al sangue che Cristo verserà per noi e di conseguenza una sorta di prefigurazione della sua fine. Il cetriolo simbolicamente è legato invece alla resurrezione, come mi viene da pensare che siano legate alla resurrezione quelle due parti paesaggistiche a sinistra la natura regogliosa, a destra spoglia, quasi a indicarci il trascorrere delle stagioni, ma anche così a rendere nudo quell'albero che è simbolo cristologico per eccellenza, come sappiamo, per cui da un lato è spoglio, ma poi con la resurrezione tornerà a essere fiorito. Per il resto guardate che nel frattempo la linea pittorica è ancora molto nitida, a fuoco diremmo, guardate come invece il manto di Maria sia decoratissima ancora con una concessione importantissima alla oreficeria. E qui cominciamo ad arrivare ai pezzi grossi della collezione. Andrea Mantegna. Noi abbiamo parlato di Andrea Mantegna, ma questo forse non è una delle opere che non è sicuramente tra le più note, tra le più celebri, ma non è una delle opere forse che ci permette di capire appieno il dipintor del marmo di cui vi parlavo. Anche perché voi vedete questo San Bernardino da Siena è rappresentato con il volto di profilo, il corpo di tre quarti, il fondo scuro, a evocare quella modalità retrattistica che vi dicevo prima, che tra il raspunto appunto da Antonello e da Messina, ma qui ancora una sorta di monumentalità ancora un po' legata a uno stile, ma forse quasi ancora tardogotico, l'abbiamo visto prima appunto con Pisanello, ad esempio. Di Mantegna ci sono ancora due opere nella collezione straordinarie, questa in particolare protetta dal vetro perché è molto 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 fragile, perché è realizzata da Andrea Mantegna con la tempera secca, quindi potrebbe, nonostante appunto i centinaia di anni che sono trascorsi ed è un'opera quindi delicatissima, si è mantenuto. In particolare un'altra meravigliosa Madonna col bambino, ancora vedete che però cosa sta succedendo? nel corso del Quattrocento le forme si stanno un po' sciogliendo o meglio, le linee di Mantegna sono sempre dure, spigolose, molto nette, scultore, come dicevamo, sia per il panneggio sia proprio per la linea del contorno che delinea tutto, però guardate come ci sia da un lato un atteggiamento molto intimo e aggraziato tra i due personaggi, la grazia ovviamente rivestita da Maria, ma guardate come il bambino si attacchi al collo di sua madre, guardate come lei lo tenga con delicatezza sotto le cosce come lui allunghi una gamba quindi una grande naturalezza guardate questo meraviglioso lo sguardo di lei lo sguardo del bambino verso l'alto una grazia strepitosa e poi questi decori stupendi questo manto blu lapislazzolo ricordate che il blu lapislazzolo proviene dall'Afghanistan di oggi passava per Samarkand ed arrivava a Venezia allora capite che il percorso che i colori dovevano intraprendere era avventuroso e quando venivano impiegati chi li vedeva come spettatore beh insomma ammirava anche questa preziosità sopra l'apislastolo vedete delle vere e proprie linee dei tratteggi preziosissimi di vero oro quindi davvero anche in questo caso una parte illuminata quasi a onda che imprezziosisce il manto e in questo caso 1480 il nostro Mantegna è già un artista totalmente maturo e ha già sposato da tempo Nicolosia Bellini la sorella di Giovanni Bellini per cui usa il colore alla veneziana cioè in modo non tonale perché lui non rinuncerà mai a questa costruzione plastica scultoria delle forme ma usa il colore in senso un po' più espressivo lirico anche la stessa grazia che si respira nel volto di lei negli occhi di lei in questo manto davvero ci possono ricordare l'influenza belliniana nei confronti di Mantegna e guardate intanto la postura della Madonna messa di tre quarti con quel fondo scuro che nel frattempo era diventato il modello ripeto ancora della ritrattistica che però diventerà anche un modello pittorico per altri generi appunto come la Madonna col bambino di Mantegna c'è ancora questa resurrezione di Cristo frammentaria che forse faceva parte di un politico più grande con un'altra parte al di sotto quindi in verticale a me fa venire in mente per la suggestione del tema la resurrezione di Cristo di Piero della Francesca molto diversa nell'impostazione qui in questo caso possiamo apprezzare da un lato lo scorcio prospettico del personaggio che vediamo al di sotto del sepolcro di Cristo Cristo che sta uscendo con un corpo scultoreo con un'atomia totalmente ripresa dal classico ormai alla fine del 400 vedete c'è una sorta di trionfo dell'interesse per il corpo e guardate anche la meraviglia anche in questo caso che risente del cognato Bellini di quel fondo luminoso quel colore giallo-arancio del cielo che dialoga con quel colore azzurro intenso del cielo sono il colore caldo e un colore freddo che crea uno sfondamento prospettico secondo le regole della pittura tonale è il motivo per cui molto spesso quando noi facciamo fotografie dei tramonti ci facciamo affascinare perché abbiamo veramente questo respiro che ci viene dai due colori che vengono accostati dai due diversi tipi di tono uno caldo e uno freddo ed eccoli qui le opere di Giovanni Bellini come vedete la tipologia del ritratto di tre quarti che risente di Antonello da Messina è ormai sdoganata sia per l'uso della pittura a olio che nel frattempo ho lasciato in disparte ma molti di questi dettagli che vi ho mostrato sono stati resi possibili proprio dall'uso della pittura a olio che nel frattempo Antonello da Messina aveva portato in Italia questo quindi è un ritratto che anche dal punto di vista psicologico risente dei ritratti misteriosi di Antonello da Messina proprio perché spesso non conosciamo l'identità del personaggio ma cerchiamo di avvicinarci al carattere dal modo in cui lo sguardo ci chiama in causa dai dettagli dell'abito dai dettagli dell'acconciatura e così via Di Bellini ancora una intensissima Cristo in pietà tra la Madonna e San Giovanni con le scritte in alto ancora scritte in greco quindi riferimento quasi alle icone bizantine ma è ricchissima di pathos Bellini è ancora un po' giovane in questo caso ma vedrete che andando avanti nel suo percorso vi capiterà di incontrare delle pietà carichissime di emozione in questo caso vedete che il corpo di Cristo dovrebbe essere sorretto senza vita dovrebbe essere sorretto dalla Madonna e da San Giovanni che invece sembra essere ancora come dire quasi semplicemente addormentato che i due non lo stanno reggendo ma si stanno occupando del loro dolore quindi ancora manca un po' quella componente realistica e però è molto spinta in avanti la componente espressiva sempre Giovanni Bellini guardate la bellezza della pittura tonale guardate come sia possibile descrivere il fondo paesaggistico con questi dettagli con la pittura olio quindi vedete che compaiono dei personaggi sul fondo dei cavalieri un'architettura una prima infilata di prospettiva aerea vedete là in fondo le montagne che vanno a degradare ma vedete anche la monumentalità dei personaggi in primo piano fatti sbalzare da quel tono giallo da quel tono caldo che fa emergere quasi il colore complementare quel blu lapislastro quasi perché sarebbe viola ma insomma mi capite non è un giallo è quasi un ocra e quindi davvero un gioco davvero coloristico per la costruzione dello spazio con una composizione davvero coloristica vedete non mancano mai gli elementi simbolici questo parapetto su cui è appoggiata una pera in riferimento alla riscrittura della storia del peccato originale la mela e poi vedete che compare anche un cartiglio avevamo incontrato i nostri cartigli parlando sempre di Antonello da Messina vedete quanto il nostro abbia comunque influenzato perché vi ricordate che nel 1474-75 il nostro Antonello da Messina era andato a Venezia e quindi tutti i pittori veneziani a partire da Giovanni Bellini cominceranno a usare la pittura a olio e si faranno influenzare quindi dallo stile permesso da questa minutia fiammiga guardate che strepitoso questo dipinto quella Madonna col bambino un'ennesima Madonna col bambino del 76 circa di Bellini quando ormai ha capito che può usare la pittura a olio ma vedete ancora in questo caso vediamo il contrario cioè il confronto con le opere di Mantegna quella volumetria quella monumentalità quella plasticità scultoria del panneggio sia del manto di Maria che dell'abito bianco di Gesù Bambino forse risentono dell'influenza del cognato di Mantegna guardate intanto la naturalezza della scena avete visto il fondo è scuro il fondo è neutro ma in realtà come se ci fossero delle piastrelle di fondo o un telo aperto che però fa sbalzare in avanti i personaggi ma guardate la naturalezza Maria che sta cercando di coprire il suo bambino che sfuggi in avanti quasi come se fosse un bambino vero che non vuole stare fermo non è un'immagine un'icona presentata al pubblico è una mamma che si sta cercando di occupare del suo bambino e guardate di nuovo queste dorature sul manto davvero strepitoso eccolo qua invece parliamo di Antonello ne abbiamo parlato tanto questo è Jacopo o Jacobello di Antonello il figlio di Antonello da Messina e questo suo Madonna con bambino è una sorta di prova che il figlio di Antonello da Messina aveva realizzato su quel cartiglio che voi vedete aveva firmato scrivendosi appunto come figlio di Antonello dicendo che Antonello era un pittore non umano cioè inarrivabile ammetteva al nostro Jacopo o Jacobello di non poter arrivare ai livelli di suo padre ahimè dobbiamo dargli ragione nel senso che vedete che soprattutto la figura del bambino è ancora un pochino rigida è ancora un'opera totalmente quattrocentesca che ha un po' perso quelle morbidezze permesse dalla pittura olio che suo padre praticava così bene nel frattempo vedete ancora una volta un simbolo potremmo riconoscere il corallo rosso al collo del bambino corallo rosso che noi sappiamo essere simbolo della preveggenza e che abbiamo incontrato ad esempio nella pala di Brea nella sacra conversazione di Piero della Francesca quindi per dire come le nostre competenze ci permetterebbero di dialogare con quello che guardiamo velocemente vi faccio vedere questo politico innanzitutto possiamo di nuovo impiegare la terminologia politico una pala d'altare fatta in più scomparti al centro abbiamo scomparto centrale la madonna con il bambino un bambino dormiente che ci può di nuovo evocare la sacra conversazione di Piero di cui abbiamo appena parlato e ai suoi lati San Pietro e San Michele Arcangelo che sta sconfiggendo un demone ma mi interessava mostrarvi anche la parte al di sopra perché vedete che c'è una c'è un trono di grazia noi abbiamo parlato del trono di grazia quando io vi ho raccontato della trinità di Masaccio perché era un modo di rappresentare padre figlio e spirito santo ma ancora nonostante qui siamo alla fine del 400 nella scuola dei Vivarini siamo sempre nell'area Veneta non erano evidentemente arrivate davvero le novità quattrocentesche di Masaccio perché se vi ricordate Masaccio aveva realizzato una figura di dio padre in forma umana ma senza l'impostazione gerarchica che troviamo ancora qui cioè qui è un dio padre molto più grande di Gesù Cristo in croce e della colomba mentre invece nel caso di Masaccio le proporzioni erano le stesse come dire uno e trino in tutto e per tutto ecco qui vi ho messo il dettaglio interessantissimo della del Sant'Arcangelo Sant'Amichele Arcangelo appunto che sta uccidendo sconfiggendo il demonio e vedete appunto in parte questa definizione scultorea permessa forse un po' mantegnesca in questo senso ma guardate ancora come invece la ricerca della minuzia dei personaggi dell'armatura della luce che scivola sull'armatura di questo bilancino su cui queste due fanciulle sono tenute in equilibrio ecco sono davvero permessi dalla pratica della pittura a olio di nuovo un'altra madonna con bambino e angeli vedete che forse a seconda dei luoghi in cui ci spostiamo le novità sono più o meno evidenti in basso riconoscete un uccellino che era uno di quelli che erano presenti ad esempio nella carta da parati che vi mostravo all'inizio e poi arriviamo a uno di quelle opere che secondo me è tra i capolavori della collezione in assoluto da che l'ho visto continuo a pensarci continuo a venermi in mente non perché sia di Sandro Botticelli l'attribuzione a Sandro Botticelli è abbastanza recente fino a pochi anni fa veniva attribuita alla scuola di Sandro Botticelli quindi non era tanto per la preziosità del nome ma c'è una qualità altissima dell'opera magari vi faccio un focus in un'altra video lezione apposita perché sto proprio riflettendo su questa opera su cui non ho trovato tantissimo materiale di studio doveva far parte di un dittico dall'altra parte c'era una Madonna addolorata ma al di là di quello guardate come risale all'epoca in cui Botticelli va incontro alla crisi in seguito all'uccisione di Girolamo Savonarola che era un predicatore nonché amico di Botticelli in cui lui riponeva la fiducia e quindi vedete che questa figura di questo Cristo che è Virdolorum cioè è un Cristo dopo la morte in realtà è un Cristo benedicente vivissimo e guardate con quale grazia provate a sostituire il volto anzi togliete barbe baffi e la corona di spine e questo Cristo si trasforma quasi nella venere dello stesso Botticelli per questa grazia con questo linearismo nettissimo di questi capelli dell'acconciatura le lacrime che scendono sul volto di lui la decorazione dell'abito davvero straordinaria per la qualità pittorica luministica dell'opera in sé nella collezione troviamo poi altre opere di Botticelli in particolare questa potrebbe ricordarvi per come ve ne ho parlato pur seppur in velocità vi ricordate quando vi mostravo le opere realizzate da Botticelli per la Cappella Sistina le pareti basse della Cappella Sistina dicevamo che le tre scene dipinte affrescate da Botticelli erano organizzate come se fossero un fregio cioè con tutti i personaggi sviluppati per il lungo a blocco su un fondo in alcuni casi c'era un fondo architettonico classico in altri casi c'era un fondo paesaggistico ecco è un po' simile come impostazioni se non fosse che qui abbiamo un'enorme preponderanza della prospettiva voi sapete che il nostro Botticelli usava benissimo la prospettiva quando voleva e se non voleva non la usava per niente in questo caso abbiamo veramente un'organizzazione architettonica bellissima con questa scansione di paraste con delle decorazioni a grottesca al di sopra le grottesche erano appena appena state ritrovate erano un po' una novità dell'epoca e guardate come ci sia questa sorta di abside che ci viene evocato che può farci venire in mente almeno a me fa venire in mente l'abside con la conchiglia di Piero della Francesca che abbiamo già nominato per la sacra conversazione questo è un dettaglio vedete c'è una profonda espressività i personaggi di Botticelli caricati di dramma appunto nella parte terminale del suo operato il numero 1510 quindi vedete che siamo già nella fase drammatica della scena non vi sto raccontando l'opera in sé vi ripeto non è una lezione fatta in questo modo guardate che cosa si trova nella collezione un'altra opera di Botticelli il ritratto di Giuliano De Medici voi sapete che era stato era il fratello di Lorenzo il Magnifico qui vi serve anche come collegamento con la storia e che era stato ucciso durante la congiura dei pazzi del 1478 esistono tre diverse versioni dell'opera questa è quella più semplificata vedete che c'è solo una sorta di riquadro azzurro alle spalle del nostro personaggio che spicca ancora una volta di tre quarti ma ancora una volta descritto con quella famosa linea netta di contorno che era tipica di Botticelli con quella grazia che evidentemente voleva evocare il personaggio con gli occhi rivolti verso il basso quasi a raccontarci forse di una maschera funebre di un personaggio già morto già defunto e poi passiamo a vedere invece una testimonianza preziosissima della collezione un'opera del giovane Raffaello Sanzio vi ricorderete che Raffaello Sanzio era andato nei primissimi anni del 500 a Firenze per poter studiare da vicino le opere di Leonardo ma anche di Michelangelo ma soprattutto di Leonardo e qui vedete appunto in questo San Sebastiano per una volta vestito e con la freccia in mano invece di avere il corpo nudo e con le frecce conficcate vedete questa grazia straordinaria che diventerà la cifra stilistica del Raffaello più apprezzato e più maturo e vedete questo nitore questa luminosità Raffaello veniva da Orbino ovviamente ancora una volta i colori di Piero della Francesca ci fanno da guida ma guardate appunto questa luminosità questo cielo terzo che sì c'è un se vedete là in fondo una sorta di accenno di prospettiva aerea leonardesca il colore delle montagne che degradano ma in realtà ma in realtà è come se fosse messo tutto a fuoco perché questa era la cifra stilistica di Raffaello nonostante quella grazia meravigliosa che traspare dal volto malinconico di questo santo qui vi ho inserito un'opera di aria fiamminga per farvi vedere gli anni cioè appunto le influenze diverse dei personaggi che frequentano l'Italia e però appunto con una scuola una formazione diversa vedete che non c'è nessun tipo di impostazione come dire monumentale non c'è il senso della spazialità che era quella del rinascimento tipico fiorentino e poi da lì in tutta Italia qui ci spostiamo come area e arriviamo in Lombardia il colore delle pareti diventa azzurro carta da zucchero polvere come vedete molto bello come tono questa è una preziosissima tabernacolo di legno dipinto con scomparti chiusi e poi ci sarebbe l'apertura del trittico ma non è esposto in questo modo un'annunciazione se non altro possiamo ripercorrere con la memoria tutte le volte che abbiamo incontrato scene dell'annunciazione l'angelo è inginocchiato la madonna a sua volta inginocchiata oppure seduta mentre sta leggendo è la presenza di un leggio con il testo sacro e poi l'ambientazione che spesso è domestica una finestra in questo caso degli archi a tutto sesto un sesto non proprio esattissimo se dobbiamo essere corretti siamo alla fine del 400 ma vedete che la prospettiva Brunelleschiara certo è arrivata ma non in forma rigorosa in Lombardia altri esempi questo ve l'ho inserito invece perché è un San Girolamo penitente perché noi sappiamo che il San Girolamo l'abbiamo incontrato nello studio con Antonello ma vi ho spiegato che possiamo trovare anche quest'altra tipologia in Italia più diffusa che non quella nello studio la figura del leone accovacciato ai suoi piedi a raccontarci di questo il miracolo della spina già tolto già avvenuto il piccolo cartiglio messo al di sotto con la firma dell'autore e questo santo con il testo in mano gli occhi arrossati come se avesse pianto fino a quel momento guardate che bella la luce che arriva dall'alto a sinistra a illuminare il suo abito con questo panneggio molto carico molto intenso sono gli anni in cui è già arrivato nel nord Italia a Milano Leonardo da Vinci e gli artisti non possono fare a meno di confrontarsi con lui un passo indietro sempre a Brescia sempre nella Lombardia per mostrarvi invece un tentativo di dialogare con il 400 toscano ma sempre in Lombardia guardate questi tre crocefisti di Vincenzo Foppa con da una parte davanti una sorta di ambientazione quasi domestica rigorosissima in prospettiva e poi una specie di finestra che si apre in realtà con questo arco a tutto sesto brunelleschiano riconoscerete quasi l'architettura della Trinità di Masaccio quella che dicevamo dipinta forse da Brunelleschi e poi i crocefisti che si stagliano sul fondo di un paesaggio ancora ecco non esattamente descritto in forma rinascimentale bisogna davvero fare i conti e la città l'ha in fondo quasi ancora un po' goticheggiante sono molto interessanti come opere perché si fanno proprio portatrici di quelli che sono gli stilemi dei luoghi in cui sono stati prodotti delle scuole delle botteghe da cui gli artisti sono usciti questo è un altro pittore Lombardo Oligure un altro San Gerolamo in questo caso con il vero e proprio miracolo della spina che noi abbiamo visto rappresentare ad esempio da Collantonio o da Jan Van Eyck anzi quello di Jan Van Eyck era nel suo studio ma era vestito con l'abito cardinalizio ne abbiamo parlato così come abbiamo parlato della presenza del libro aperto in mano quindi anche in questo caso potremmo divertirci a trovare analogie e differenze vi ho inserito una serie di opere molto curiose questa è la circoncisione di artisti apparentemente minori che però ci fanno capire appunto come in quegli anni nella Lombardia di quegli anni appunto le novità del primo rinascimento toscano fossero arrivate a distanza di molti anni come vedete però appunto legate a un modello che spesso era ancora un po' arcaico guardate i volti dei personaggi ancora un po' decorativo un po' che risentiva anche del miniaturismo in questo caso sono opere di piccolo formato con la descrizione dei dettagli molto elegante molto raffinata ancora davvero quasi un po' tardogotica perché appunto le corti per cui queste opere spesso venivano realizzate potevano essere ancora in qualche modo punto di riferimento siamo sempre nell'area di Milano della Lombardia vi ho inserito adesso una serie di madonne con bambino ma con una differenza un'iconografia curiosa che è la madonna che allatta quindi il seno di Maria messo in evidenza con questa scena che diventa ovviamente di conseguenza una bellissima scena dolcissima di maternità la madre che allatta il suo bambino guardate che bellezza questo fondo con queste rose le rose legate alla figura di Maria e sul fondo se riuscite a vedere nella parte di destra dietro quella scala illuminata davanti ci sono dei germani reali nell'acqua in questo stagno in questa pozza d'acqua questa scala illuminata e alle spalle abbiamo delle galline che stanno rassolando degli altri animali da cortile quindi davvero quasi a riportarci a un paesaggio che per chi vedeva l'opera all'epoca sembrava quasi quello normale contadino della città o dei villaggi in cui questi personaggi vivevano guardate che meraviglia questa dolcezza siamo sempre nell'area appunto lombarda è arrivato Leonardo dicevamo questi artisti spesso sono dei leonardeschi se non sono stati i suoi allievi diretti ne hanno risentito parecchio lo vediamo lo riconosciamo in parte dalla dolcezza che traspare da questo sfumato che comincia a comparire nei volti dei personaggi in queste espressioni indefinibili in fondo quel sorriso quegli occhi rivolti verso il basso possono evocarvi alcune vergine rappresentate da Leonardo da Vinci in particolare Boltraffio era sicuramente un allievo di Leonardo e in particolare vi ho messo questa opera di Boltraffio anche perché vi segnalo che questa iconografia la Madonna che è allatta scomparirà dopo il concilio di Trento considerata una scena scabrosa evidentemente non si può più fare la Madonna non può mostrare il seno nell'allattamento mentre è stata una scena molto dolce praticata a lungo come avete visto con tanti esempi almeno nel nord Italia per quello che vi ho mostrato tra l'altro questo dipinto che ha la forma comunque circolare potrebbe ricordarvi il desco da parto di cui abbiamo parlato quando io vi parlavo appunto di Botticelli e della Madonna del Magnificat ad esempio o di quelle altre opere che venivano realizzate con questo formato in riferimento alle donne che la forma del vassoio che veniva portato alle donne che avevano partorito e ancora un'opera dell'area lombarda appunto di Andrea Solario guardate come l'ecceomo che verrà realizzato anche da Antonello da Messina ci mostra questo Cristo frontale come quasi sempre accade per la figura di Cristo guardate come si sia davvero introdotto quella logica pittorica leonardesca per l'espressività dei personaggi per la morbidezza dell'incarnato per questo sfumato che riesce veramente a delineare i contorni anzi a sfumare i contorni dei personaggi con questa pittura preziosissima che definisce il pelo della barba la ferita della spina il sangue che cola davvero di altissimo livello un altro leonardesco è Bernardino Luini trovo preziosissima questa opera anche perché ci mostra la scena dell'adorazione del bambino ma ce la mostra in un modo un po' particolare proprio messo il dettaglio è un notturno giustamente perché è la notte della nascita di Natale in sostanza è Gesù Bambino e vedete che al di fuori c'è il dettaglio di chi probabilmente i magi guardando le stelle dialogando con l'alto con il cielo insomma arriveranno a rendere omaggio a Gesù Bambino qui ci sono una serie di altre opere che io trovo meravigliose di questo pseudo giovenone con una visione razionale quattrocentesca anche se siamo nel 1520 ma si siamo spostati in Piemonte quindi forse più aumenta la distanza geografica con i ritrovati fiorentini dei primi anni del quattrocento e più aumenta la distanza culturale c'è voluto del tempo per realizzare guardate questa prospettiva centrale perfetta Brunelleschiana con tutte queste stanze questo studio così silenzioso così rigoroso ordinato a differenza dello studiolo di San Gerolamo di Colantonio ad esempio o molto più simile ma molto meno affollato di oggetti di quello di Antonello che continuiamo a citare un'altra opera di un leonardesco De Predis un ritratto perché vi dicevo la ritrattistica coprirà un ruolo importante vedete che il personaggio è visto leggermente di tre quarti il suo volto è di tre quarti e guarda lateralmente uno degli elementi che noi metteremo in evidenza o che vi ho già messo in evidenza parlandovi della Gioconda riguarda proprio il contrapposto non il contrapposto alla regola che vi ho dato parlandovi dei greci ma piccoli scarti rispetto a un ideale asse di simmetria centrale che Leonardo impiegava per movimentare le figure in forma molto naturale e spesso se la testa era leggermente ruotata in una direzione gli occhi invece sfuggivano nella direzione opposta per creare proprio una sorta di piccolo scarto dinamico che rendeva molto più naturale il tutto tra l'altro questo bellissimo giovane gentiluomo indossa un cappello della moda del Cinquecento dell'epoca guardate come gli sfondi scuri ormai entrati in uso dopo la ritrattistica impostata da Antonello da Messina permettono proprio di far spiccare i personaggi in primo piano con questi colori così accesi così luminosi così raffinati qui vi ho messo sempre come artista piemontese questo Ferrari guardate in questo caso siamo a 1520 l'anno della morte di Raffaello sembra di essere tornati quasi a un'opera quattrocentesca potremmo vedere questa flagellazione potrebbe in parte ricordarvi la flagellazione di Piero della Francesca per quanto molto diversa sia per l'ambientazione prospettica sia per l'impostazione dell'opera però se non altro perché c'è una sorta di specularità tra i personaggi che stanno flagellando il nostro Cristo un tipo di espressività un pochino più nordica come dire e una prospettiva un pochino meno rigorosa anche il dettaglio dell'uomo che si sta beverando in primo piano davvero un pochino più un dettaglio anedottico che a Firenze non avremmo trovato nel corso del Cinquecento soggiornerà a Bergamo Lorenzo Lotto un personaggio interessantissimo e difficile da definire stranissimo se mi permettete questa espressione che vuol dire tutto e nulla in particolare all'Accademia Carrara ci sono le tre predelle che facevano parte di un politico per la chiesa di Santo Stefano e San Domenico oggi distrutta e quindi oggi la parte più importante del politico è questo dito nella chiesa di San Bartolomeo qui vi ho inserito nonostante io non vi abbia quasi mai parlato se non mai parlato di Lorenzo Lotto ma vi ho inserito perché sono comunque significative come opere predelle se non altro sappiamo essere la parte bassa dei politici guardate come c'è questa sorta di scorcio prospettico rovesciato che potrebbe farci venire in mente certi scorci prospettici alla Mantegna anche se ormai siamo molti anni dopo e quindi ovviamente quello è da tenere in mente di Lorenzo Lotto ci sono due ritratti straordinari in museo uno è questo ritratto di giovane con quest'aria un po' enigmatica questo fondo scuro questo dettaglio che mette in evidenza la lumeggiatura dei riccioli gli occhi così vividi così vicini e così vividi ecco sono tutti elementi davvero tratti dalla ritrattistica di Antonello da Messina che ha fatto scuola ve l'ho citato forse più di tutti stesso discorso vale per questo strepitoso ritratto di Lucina Brembati a cui vorrei dedicare una piccola pillola di curiosità perché è un'opera molto interessante ma per il momento mi limito a dire di nuovo un notturno ma vedete appunto di nuovo questa capacità di penetrazione psicologica permessa da un'impostazione di ritratto ormai cinquecentesco in questo caso questo tendaggio rosso che serve a far emergere in primo piano l'incarnato della protagonista altrimenti il fondo notturno guardate che bella la luna che si riflette sul paesaggio alle spalle probabilmente il fondo troppo scuro non avrebbe permesso ovviamente come se fossero due luci che convivono un interno separato dalla tenda e un esterno qui ho messo il dettaglio perché poi appunto vorrei fare una piccola una piccola focus su quella luna che vedete là in alto guardate che meraviglia questa pittura definita con piccole pennellate vedete cosa può cosa ormai cosa possono fare gli artisti impiegando la pittura a olio dalla vividezza dell'occhio della pupilla alla definizione luministica delle perle dell'acconciatura davvero incredibile sempre di Lorenzo Lotto adesso scorro su di lui perché io non ve ne ho parlato tanto un'opera molto importante con una parte probabilmente eliminata quel grigio che vedete in alto in quel quadrato quel rettangolo probabilmente c'era uno sfondo paesaggistico perché vedete che c'è una finestra su cui sono appoggiati dei tendaggi dei tappeti e probabilmente c'era lo sfondo paesaggistico che è stato evidentemente asportato un'altra opera del nostro Lorenzo Lotto ma andiamo avanti forse vi ho parlato di già parlato di Tiziano e quello che vi dicevo prima la pittura tonale veneta si identifica in questo modo entrate in un museo e trovate dipinti che hanno una presenza di fondo paesaggistico importante prima cosa seconda cosa l'effetto dello sfondamento prospettico è generato dall'avvicinamento dall'accostamento dalla giusta posizione di toni di colore caldo e toni di colore freddo guardatela in fondo questo meraviglioso paesaggio si apre ci fa respirare c'è proprio il senso dell'apertura dello spazio grazie all'accostamento di questo giallo luminosissimo vicino a questo blu intenso che poi degrada nel rosa e poi ritorna a essere azzurro vedete cosa si riesce a ottenere questa è un'opera di un Tiziano ancora giovane Tiziano morirà nel 1576 quindi è un Tiziano ancora giovane a sfondo mitologico però vedete le sue caratteristiche già ci sono tutte un'altra meravigliosa opera di Tiziano stesso discorso una madonna con bambino costruita non alla Toscana non c'è una linea di contorno non c'è una linea definita a Venezia si impiega la pittura tonale a partire da quella scuola di Giovanni Bellini poi diventerà la scuola di Giorgione che sarà il maestro di Tiziano e quindi questa idea di costruire del senso dello spazio con una prospettiva che è cromatica ottenuta dall'uso del colore dalla giusta posizione di toni di sfumature colori chiari colori freddi colori scuri colori chiari guardate come il blu accostato al rosso crea un senso volumetrico così come di nuovo quello sfondo paesodgistico meraviglioso allarga la visione e lo spazio piccolo focus curioso all'interno dell'Accademia Carrara di Bergamo finalmente possiamo vedere un'opera di una donna è un'eccezione perché Sofonis Banguissola era un'ottima ritrattista in questo caso però è una sacra famiglia che lei ha realizzato come coppia di un dipinto di un altro artista che era Camillo Boccaccino che è custodito in Inghilterra ma vedete è assolutamente molto 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 simile è una coppia quindi in realtà è quasi identica se non fosse che c'è una definizione migliore se non fosse che c'è una maggiore grazia ecco se non altro la nostra Sofonis Banguissola ci permette davvero di occuparci di una donna pietrice tra l'altro vi faccio notare una cosa curiosa certo era già nell'opera di Camillo Boccaccino perché questa è semplicemente un'opera ma per una volta vediamoci questo bambino in braccio a suo padre oh in braccio a Giuseppe la madonna con le mani libere finalmente forse è per questo mi fa simpatia perché dalla mano di una pietrice con il pennello in mano e non occupandosi solo dei bambini San Giuseppe che deve occuparsi di Gesù Bambino quindi è un dettaglio curioso volevo raccontarlo vado verso la conclusione mostrandovi una serie di ritratti meravigliosi di Giovanni Battista Moroni siamo sempre nell'area Lombarda Moroni Savoldo saranno gli artisti che metteranno appunto un linguaggio pittorico fatto di toni di colore che risentono del tonalismo veneto ma anche che diventeranno spesso via via più scuri più intensi e che permetteranno quindi di impiegare questi sfondi neutri che fanno emergere in primo piano i personaggi guardate che meraviglia questa serie di ritratti che sono custoditi appunto nella collezione ritratti dicevo prima molto spesso con questi fondi neutri questo tipo di colore questo tipo di impostazione veristica diventerà il linguaggio su cui si formerà niente meno che Caravaggio perché Caravaggio formatosi in Lombardia risentirà dell'influenza di un Moroni Moretto Savoldo artisti che in parte sono presenti nella collezione guardate che meraviglia questo ritratto di bambina severissima serissima questa bambina che spicca su questo fondo neutro e guardate che meraviglia questo ritratto di vecchio seduto sembra di vedere uno di quei ritratti appunto alla Tiziano con questa espressività del personaggio molto realistico molto verace è modernissimo sembra quasi un ritratto ottocentesco che detta così sembra quasi un'offesa invece no era per dire quanto sembra un ritratto moderno dell'epoca nostra e invece risentendo della lezione appunto di Tiziano la pittura lombarda eredita quel tonalismo quell'intensità emotiva psicologica che Tiziano aveva proposto appunto per le sue opere infatti se vi ho raccontato della base che ha portato alla formazione di un caravaggio beh arriviamo al suo maestro lombardo Simone Peterzano vi ho forse poche volte mostrato sue opere questo è un sottoritratto che lo vede con pennello e tavolozza in mano e al di sotto lui si firma dicendosi allievo di Tiziano voi vedete che il colorismo tonale alla Veneta alla Tiziano era fonte di orgoglio per i pittori cinquecenteschi anche lombardi quindi il nostro Simone Peterzano risente di quella formazione e diventerà il maestro di Caravaggio e vedete che ancora una volta è ritratto ormai di tre quarti quasi di rato di spalle in questo caso con dei giochi coloristici importanti e il fondo neutro finisco mostrandovi delle opere che non sono più rinascimentali ma che completano una meravigliosa collezione una serie di Nature Morte di Evaristo Baskenis o Baskenis con strumenti musicali di Nature Morte vi ho parlato vi parlerò parlandovi appunto di Caravaggio che ha creato questo genere minore occuparsi di oggetti inanimati messi insieme che ci fanno riflettere sulla velocità del tempo a nostra disposizione su quanto poco ne abbiamo e su quanto occorra sfruttarlo al meglio per cui molto spesso sono presenti fiori frutta che tendono a deperire come la canestra di frutta appunto di Caravaggio ma nel caso di Baskenis appunto lui ha creato queste Nature Morte con strumenti musicali spartiti proprio a indicarci il senso del tempo che occorre considerare molto spesso in queste meravigliose Nature Morte ci sono corde degli strumenti musicali che sono saltati quasi a dirci di questa usura di un tempo che sta scorrendo libri perché c'è il tempo per la lettura questi frutti spesso già un po' bacati la scuola è quella di Caravaggio nel senso non era lui per primo che aveva rappresentato questa idea e poi una cosa ancora più interessante questi segni lasciati dalla polvere sulle casse armoniche di questi gli uti di questi violini di queste viole di questi violoncelli di questi antenati della chitarra perché appunto l'idea della polvere il tempo che si deposita è bellissimo sono veramente molto spesso la polvere che è stata semplicemente sfiorata da un dito che in modo quasi impertinente l'ha scostata da questi da questi strumenti musicali quasi l'intervento dell'uomo a ricordarci del nostro passaggio e del poco tempo a nostra disposizione qui vedete appunto alcuni dettagli sempre suo questo ragazzo con la canestra di pane dolciumi che diventa quasi centrale togliete il ragazzo diventa la natura morta l'elemento centrale questo sguardo che ci chiama in causa molto molto evocativo ancora un'altra meravigliosa natura morta di queste con strumenti musicali un'altra ancora ce ne sono alcune veramente molto molto belle le cose restano un po' le stesse e poi non siamo assolutamente più nel rinascimento ci siamo veramente spostati già prima eravamo nel seicento inoltrato qua andiamo addirittura all'interno del settecento di nuovo a venezia francesco guardi che noi conosciamo come vedutista in particolare ma invece di essere un vedutista alla canaletto ho messo un'opera di canaletto subito dopo il vedutismo di guardi è un pochino più atmosferico un pochino più moderno se vogliamo con delle pennellate più sfrangiate più aperte e dovete sapere che vi ho inserito questa opera perché a volte noi parleremo del Grand Tour dopo la guerra dopo la fine della guerra di successione austriaca nel 1748 gli intellettuali europei possono tornare in Italia a compiere il Grand Tour e Venezia è una delle mette predilette per cui anche il nostro guardi diventerà un vedutista importante così come il vedutismo era già quello praticato appunto da canaletto inventato se vogliamo da canaletto e la sua famiglia lui lavorava come scenografo teatrale quindi questa idea di quasi realizzare dei fondali architettonici e paesaggistici per gli eventi teatrali per le piste teatrali ovviamente ha contribuito alla creazione di questo genere così come di Pietro Longhi vi ho inserito due opere che ci sono un artista di cui probabilmente non abbiamo parlato e non parleremo un altro artista veneziano che ci propone anche gli svaghi le sale da gioco il lusso dell'aristocrazia il carnevale dell'aristocrazia veneziana temi che magari potrete incontrare nei testi di Goldoni e poi ho messo questa opera perché toglie il fiato è un Pelizza da Volpedo forse meno noto ovviamente io vi parlo di Pelizza da Volpedo quando vi parlo del quarto stato ovviamente ma quando Pelizza era a Parigi nel 1889 per l'apertura dell'expo parigina quella della della Tour Eiffel per intenderci muore la sorella Antonietta e il dolore è talmente grande che occorre che lui rifletta su questo dolore a modo suo cioè dipingendo guardate che effetto modernissimo della pennellata nitida luminosissima a me ricorda certe opere di Delacroix per intenderci che erano molto di molto precedenti però insomma nella intensità luminosa davvero qualcosa di significativo e poi vi concludo quasi con un'opera di Piccio che a me fa molto ridere perché questa contessa Anastasia Spini 1840 guardate la sua espressione la nostra contessa che viene vista con la tabacchiera in mano ha appena posato il libro di preghiere sul tavolino e guardate che espressione quasi i baffetti vengono mostrati questa espressione un pochino impietosa tra lo svago il tabacco da fiuto e la preghiera un ritratto di un'epoca e poi c'è un'opera di Hayez che fa parte sempre delle serie di opere di Hayez di cui vi avrò parlato in particolare in riferimento o vi parlerò in riferimento ai melodrammi al suo legame con Giuseppe Verdi per intenderci e in conclusione questa la maledizione della madre di questo artista che faceva parte dell'Accademia appunto Carrara di Bergamo che io non conosco in particolare ma che mi piaceva mettere a conclusione del percorso perché ci si avvia verso la modernità sia verso il novecento sia per quanto riguarda la pennellata guardate come è sfrangiata come è aperta come l'abito di questa donna in primo piano ci possa evocare la moda della belle époque dell'art nouveau e quindi davvero un'altra epoca che si sta aprendo ma anche perché come questa maledizione della madre con questo braccio che viene in avanti verso questo personaggio con gli occhi sgranati ecco forse apre a temi che sono quelli più novecenteschi quelli più legati a Freud più legati a un'epoca che viene nella nostra direzione a un'epoca a un'epoca a un'epoca